Un ragazzo di soli 23 anni morto, un altro gravemente ferito. È il drammatico bilancio del terribile incidente che si è verificato nella notte lungo strada Gazzana, poco dopo lo spaccio Serafini, in direzione Gossolengo. Erano passate le quattro quando il SUV su cui viaggiavano i due giovani ha sbandato ed è finito fuoristrada. Dopo aver percorso un'ottantina di metri nel canale, ha sbattuto contro un ponticello ribaltandosi sulla pista ciclabile. Il guidatore è stato sbalzato dall'abitacolo, mentre il passeggero è rimasto bloccato all'interno. L'auto ha preso subito fuoco e per lui non c'è stato scampo. Inutili i tentativi di estrarlo da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti. La vittima, Claudian Murrizi, è un giovane di 23 anni, residente a Gossolengo. Il ferito è stato recuperato dagli operatori del 118, trasportato all'ospedale di Piacenza e poi trasferito a quello di Parma in condizioni gravissime. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora e mezza, sul posto i carabinieri per gli accertamenti di legge.